E bello tutti allenatori, sono Joe e bentornati, sono un video di Pokémon GO! O dovrei dire del tour di Sinnoh! E sì, perché allenatori mi avete chiesto in tantissimi, ma Joe, quando arriva il video dedicato sul tour? Dove vediamo bene tutti i dettagli, le tips e come giocare al meglio questo tour? E allora iniziamo, forse con la cosa anche più importante, quando sarà ragazzuoli questo tour? L'evento verrà svolto il 24 e il 25 febbraio, sabato e domenica, e sarà dalle 10 alle 18 ora locale. Quindi, che vuol dire un bellissimo weekend di Pokémon spettacolari. Seconda cosa, allenatori, che ve la leggo direttamente dal sito ufficiale, non è necessario un biglietto per partecipare al tour di Pokémon GO di Sinnoh globale, perché infatti tutti possono partecipare gratuitamente a questa esperienza entusiasmante ispirata alla regione di Sinnoh. Chiaramente ci farà visita anche il team Go Rocket, ragazzuoli, perché arriverà una missione speciale dedicata, in questo caso anche esclusiva, che verrà rilasciata durante il tour di Pokémon GO di Sinnoh globale. In questa storia di ricerca speciale con tragitti ramificati, quindi un po' diversi, potete scegliere uno dei Pokémon scoperti per la prima volta nella regione di Sinnoh, con cui dedicarvi all'esplorazione. E inoltre, allenatori vi aspettano incontri come ricompensa con altri Pokémon scoperti per la prima volta nella regione di Sinnoh, tra cui Spiritomb. E vi ricordo che stiamo effettuando il tour e in questo evento, ragazzuoli, tutti i Pokémon della regione di Sinnoh saranno possibili Shiny. Quindi praticamente ogni check che andremo a fare può uscire il cromatico. Arriviamo all'esperienza di gioco, praticamente ragazzuoli, diamante o perla? Su questo lato qui abbiamo già visto a inizio settimana che è stata introdotta la missione destinazione Sinnoh, dove in uno degli step potevamo andare a scegliere la nostra medaglietta diamante o perla. E infatti voi allenatori, quale avete scelto? Arriverà anche Rage Gigas a farci visita nei raid leggendari? Inutile dirlo, anche lui possibile Shiny. Arriviamo alle due bombette, ragazzuoli, di questo tour, e cioè di Alga e Palkia Origin. E ne abbiamo parlato veramente tanto, ragazzuoli, di questi due Pokémon che arriveranno questo weekend per il tour globale. Chiaramente anche loro possibili Shiny e non vedo l'ora di effettuarli, ragazzuoli, perché da quello che abbiamo potuto vedere in anteprima per il tour di Los Angeles, praticamente veniva fuori un raid di Palkia e più o meno verso gli ultimi dieci minuti si andava a trasformare in Palkia nella forma originale. Quindi da quello che abbiamo potuto vedere dai nostri colleghi a Los Angeles, non ci saranno raid solamente di Palkia e di Alga originali. Ma quando verrà fuori un raid di Palkia o di Alga, dobbiamo ben tenerlo d'occhio perché a tot di tempo può sguicciare e cambiare forma in queste qui originali. Perché infatti poi questi raid di Alga e Palkia ci saranno solamente negli habitat lungomare, vivace e scavi tossici di Alga e Palkia normali, possiamo dire. Mentre la forma originale di Alga e Palkia ci saranno negli habitat bosco antico e laguna geotermale. E come si farà, ragazzuoli, a vedere gli habitat? Praticamente abbiamo qui la scaletta. Inizieremo il tour dalle dieci appunto con lungomare vivace fino alle undici che poi starterà bosco antico, proseguendo verso scavi tossici e laguna geotermale. Eccola lì, che poi ora per ora si vanno a ripetere. E proprio qui riguardo agli habitat chiaramente abbiamo gli spawn dedicati, ragazzuoli. Ad esempio habitat lungomare vivace, eccoli qua. I Pikachu mi sembra che ci sono sempre, ragazzuoli, esclusivi con il cappellino di Lucas e Lucinda. Mentre sotto chiaramente gli altri variano, vedete qua ad esempio abbiamo molto belline, alcune i Shellos Mare Ovest molto belli. Ad esempio andiamo su scavi tossici, vedete che infatti i Pikachu rimangono, ma gli altri spawn cambiano. Quindi semmai su questa cosa qui, ragazzuoli, selezionate un attimino quelli che vi interessano, magari un attimino di più, non lo so, vi manca Sneasel Shiny, eccolo qua. Andate chiaramente su scavi tossici. Vi ricordo che mettendo l'aroma possiamo avere degli spawn esclusivi, ragazzuoli. Quindi il mio consiglio è sicuramente quello di utilizzarlo, mettetelo. Perché se mettiamo l'aroma possiamo attirare a noi questi Pokémon. Gli hanno un ragazzuoli, guardate qua che bella roba. Abbiamo anche qua chiaramente gli habitat, lungomare vivace e scavi tossici. Abbiamo H, I, N, O, S. Mentre bosco antico e laguna geotermale, H, I, S e U. Tutti possibili Shiny. Dalle huevos anche qui vi ho fatto una capocchia così, ragazzuoli, perché possiamo trovare cose veramente molto interessanti. Uova da 2 km, guardate qua. Bellissimi. 5 km. Chiaramente tutti i possibili Shiny, raga, però anche qua selezionate anche magari quelli che cercate Shiny per andare a schiudere il più possibile le huevos, sempre che volete anche andare a schiudere uova. Io mi concentrerò chiaramente su quelle da 10 km, sempre che andrò a racimolarle, perché non si sa con che frequenza si prendano. E sicuramente sono anche quelle più rare, perché a 10 km abbiamo 3 Pokémon. Pacirisu, Chatot e Carnivine, ragazzuoli, che sono quelli sicuramente più rari. E riguardante la Roma, quello che abbiamo potuto vedere dai nostri colleghi appunto a Los Angeles, oltre che tutti questi bellissimi Pokémon che possiamo attirare a noi tramite la Roma, c'è anche lo spawn di leggendari, ragazzuoli. Ho visto proprio degli allenatori che, appunto, mettendo la Roma, hanno attirato a loro, ad esempio, i tre guardiani dei laghi. Mensprit, Hazelf e Uxie. E chiaramente poi ci saranno anche delle missioni dedicate, ragazzi, che possiamo trovarli in game tramite queste missioni. Vi metto qui a fianco, ragazzuoli, una bellissima schermata di Pokémon GO News Ita. L'hanno fatta veramente top, guardate che bellezza. Con i quattro habitat e tutti gli spawn che possiamo avere in quell'habitat. Il rilascio shiny di questi Pokémon che sarà il debutto per loro, ragazzuoli, perché fino adesso non c'erano ancora all'interno del game possibili shiny. Faci risu, chatot, voltorp disu, bellissima roba, ragazzuoli. Ci sono degli shiny veramente con delle colorazioni bellissime. Le nostre medagliette con la nostra scelta, scegliete il vostro percorso, eccolo qui. Infatti, l'unica differenza sarà la ricompensa con il leggendario scelto. Infatti, in caso non l'avete visto, vi lascio qua nelle schede il video dove sono andato a fare la mia scelta sulla medaglietta. Mettendo la Roma abbiamo gli spawn degli unknown, infatti, eccoli qua, che immagino vanno a formare la parola sinno. Teoricamente sì. Uova da dieci a tema e sfida di collezione ogni ora, quattro sfide di collezione, una per ogni habitat. Quindi, ragazzuoli, quando switcherà, quando cambierà l'ora, cioè cambierà l'habitat, arriverà una nuova missione. Quindi, occhio, ragazzuoli, perché ad ogni switch, ad ogni cambiamento di habitat, arriveranno sempre nuove missioni. E visto che abbiamo quattro habitat, arriveranno quattro missioni o forse cinque. Magari una starterà anche prima del tour, per farci magari assaporare l'inizio. Staremo a vedere. Uova da cinque con shiny rate aumentato. Eccoli lì, la puzzola, voltorp e il quillfish. Bellissimi, ragazzuoli. Abbiamo visto chiaramente anche quelle da due chilometri. Arriviamo a destra, dell'infografica, rilascio shiny, eccolo lì che l'abbiamo visto prima. Per tutti, nessun limite ai ride da remoto, ragazzuoli. Quindi staremo a vedere anche qua se dedicarci un attimino un po' ai ride. Quindi vedrò anch'io se invitarvi, abbonati, allerta. Abbiamo addirittura sei scambi speciali, quindi vedrò di approfittarne. Magari quando si va a catturare determinati doppioni, così andiamo a scambiarli con gli altri allenatori. Addirittura sarebbe top se abbiamo l'amicizia fortunata. Eschi attive per un'ora, distanza per la schiusa dimezzata. Le ricerche ogni ora, quella che abbiamo visto prima per gli habitat. Abbiamo le due forme qua di di alga e palchia, molto bellini. E infine sotto la ricerca di shaming shiny. Unica ricompensa a pagamento per 5,99 euro fino al 25 febbraio. Potrete comprarla quando volete. Quindi mi raccomando allenatori, se volete registrare shaming shiny, ecco qua la missione. Se non volete shopparla, potete effettuare il vostro tour completamente gratuito, senza shoppare questa missione qua. Infine le due vere differenze, se selezioniamo diamante o perla. Medaglia diamante, possibilità di incontrare un di alga nella forma originale che sa usare il suo attacco speciale Fragortempo. Durata doppia dell'effetto avventura per Fragortempo. Possibilità di ottenere una caramella di alga nella ricerca speciale del tour di Pokémon GO di Sinnoh globale. Mentre se andiamo a selezionare perla, l'incontrario. Chiaramente possibilità di incontrare un palchia nella forma originale che sa usare il suo attacco speciale Fendispazio. Durata doppia dell'effetto avventura per Fendispazio. E possibilità di ottenere una caramella palchia nella ricerca speciale del tour di Pokémon GO di Sinnoh globale. Queste cose qui sono le uniche differenze per la selezione. Allenatori, dunque, questi erano tutti i dettagli precisi per andare a effettuare il nostro tour di Sinnoh. Le cose sicuramente più importanti da conoscere prima di arrivare a sabato. E ditemi anche se vi potrebbe essere utile un video su come andare a prepararsi al meglio sul tour di Sinnoh. Quanti spazi box avere, quante Pokéball, quanti strumentini. Essere a conoscenza di alcuni trick da utilizzare. Come ad esempio il più famoso, il primo che mi viene in mente, è sicuramente la cattura rapida. Per andare a ottimizzare il tempo e catturare più Shiny e più Pokéball rari possibili. Oppure anche per quegli allenatori che sono alle prime armi e non sanno bene come muoversi all'interno di questi eventi. Se andare a shoppare qualcosina, cosa shoppare, sprendere aroma, esche. E quindi come sfruttare al meglio quello che abbiamo a nostra disposizione e cercare di portarci a casa più Shiny possibili e leggendari possibili. Per qualsiasi domanda o dubbio scrivetemelo sotto nel box commenti. Per oggi allenatori da GamerGio è veramente tutto. Mi raccomando iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e se il video ragazzi vi è piaciuto e vi è stato utile vi invito a lasciare un bellissimo like. GamerGio vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao Bombers!